La Regione Toscana ha respinto la richiesta del gestore della discarica di podere rota di un'ulteriore dilazione della sospensione del procedimento autorizzatorio unico regionale. Lo scorso 18 febbraio XAI aveva chiesto formalmente alla Regione la sospensione del pauro sull'ampiamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in attesa di un piano di caratterizzazione approfondito. Una decisione presa a seguito dei rapporti di ispezione ambientale dei rilievi ARPAT che evidenziavano una potenziale contaminazione delle acque sotterranee. La sospensione del provvedimento aveva lo scopo di procedere a verifiche rigorose sul terreno della discarica in caso di conferma tutta l'area doveva essere bonificata. La Regione a febbraio scorso accordò a XAI sei mesi di tempo proprio per muoversi in questa direzione. I sei mesi sono scaduti il 18 agosto. Il 2 di agosto XAI aveva presentato una nuova istanza per la concessione di altri sei mesi che però non sono stati concessi. La Regione ha annunciato contestualmente anche la convocazione della prima conferenza dei servizi ovvero l'incontro tra le pubbliche amministrazioni e gli altri enti coinvolti sul progetto di ampliamento confronto rinviato già per ben quattro volte. Sono convinta che questo nuovo passaggio costituisca ancora un altro passo avanti verso la chiusura della discarica di Podrerota ha commentato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi.